Salve a tutti ragazzi ed eccoci qui finalmente in questo nuovissimo video ed oggi amici miei come potete vedere ci troviamo sempre qui su Starfield con una nuova guida nel video di oggi andremo a vedere come creare da zero un semplice avamposto con tutte le cosucce che ci servono all'inizio per avviare questa attività sui vari pianeti questo gioco ci offre la possibilità di andare a creare un luogo tutto nostro e andare più che altro anche a recuperare risorse per poi venderle o creare altri oggetti prima di tutto per iniziare abbiamo bisogno di materiali iniziali che o li avete già recuperati durante le vostre avvetture in Starfield oppure se ne avete bisogno potete andare dai vari mercanti nelle città ad esempio come quello che vi sto facendo vedere a Nuova Atlantide recuperate tutti i materiali come ad esempio rame, alluminio, berillio, ferro, tungsteno perché ci serviranno proprio per andare a creare gli edifici all'interno dell'avamposto ce n'è anche un altro a Nuova Atlantide prendete il treno andate nella zona commerciale entrare nell'edificio e la nostra qui signorina avrà veramente tante risorse una volta preso tutto dobbiamo andare a scegliere il pianeta il pianeta ragazzi è libero siete liberi di creare un avamposto ovunque voi avete necessità o volete proprio crearlo io ho scelto questo pianeta proprio all'inizio al sistema solare iniziale del gioco quello che sicuramente dovete fare è andare ad analizzare quali sono le risorse andando a scansionare il pianeta se non vi fa scansionare il pianeta potete semplicemente avvicinarvi con la nave viaggiare verso il pianeta e in automatico poi vi darà la possibilità di cliccare l'apposito tasto e rilevare le varie risorse in base alle risorse che potete vedere cliccando semplicemente con il cursore potete avere un'idea di cosa vi circonda quello che noi dobbiamo fare è atterrare una porzione di terra che ci darà la possibilità di recuperare con un singolo avamposto più elementi come fare aprite il menu del radar e andate a cliccare il tasto avamposto in questo caso uscirà questa sorta di radio faro questo piccolo edificio che sarà effettivamente il cuore di tutto il nostro accampamento come vedete quando voi lo spostate in alto a sinistra vi dirà le risorse disponibili in quel raggio di azione in questo caso abbiamo ferro, elio e acqua che sono molto buone altre risorse molto utili sicuramente sono l'alluminio però in questo caso accontentiamoci di questo una volta che voi avete posizionato il primo edificio vi si aprirà un altro menu con tutte quante le varie strutture un'altra cosa che vi consiglio è cambiare visuale in modo da avere tutto quanto dall'alto e molto più facile da gestire e andare a modificare prima di tutto iniziamo con gli estrattori, cioè quegli edifici che ci daranno la possibilità di estrarre dal terreno tutti gli elementi che a noi interessano, gli elementi che sono presenti in questo momento nel nostro luogo abbiamo estrattori di solidi, estrattori di liquidi e di gassosi potete vedere il simboletto sempre in alto a sinistra cominciamo da quello del ferro come potete vedere ci saranno delle colorazioni sul terreno che andranno a distinguere vari elementi quindi voi potete mettere l'estrattore solamente dove è il colore esatto in questo caso l'estrattore di ferro va su questa tonalità di rossiccio mettiamone due ora passiamo all'estrattore di elio, il colore dell'elio è in questo caso il verde e dobbiamo posizionarlo in questo cerchio anche qui ne metteremo semplicemente due per iniziare e infine per ultimo l'estrattore dell'acqua, quello dei liquidi quindi lo possiamo mettere solamente uno, questo non c'è differenza, lo potete mettere ovunque una volta fatto ciò, come vedete in basso a destra, necessitiamo dell'energia per far funzionare questi estrattori come fare per risolvere questo problema? semplicissimo, dobbiamo utilizzare dei generatori oppure altri strumenti come ad esempio i pannelli solari una volta che quindi voi andate a cliccare sopra alla categoria energia ci sarà una lista di oggetti in questo caso un pannello solare, quello che sto utilizzando io ci darà, ci produrrà un'energia pari a 4 come vedete in basso a destra ci dirà che in questo momento abbiamo 20, ora 24 mettendo in un altro siamo arrivati a 28 quindi andiamo a coprire completamente l'energia richiesta dalle nostre strutture ora ve ne faccio vedere un altro per farvi capire la differenza questo generatore a carburante necessita però per essere attivato dall'elio noi l'elio lo abbiamo, quindi cosa fare? cliccare il tasto crea link, come vedete si creerà questa linea rossa e dire che dal generatore di elio, cioè dal distributore, dall'estrattore scusate di elio porterà l'elio che raccoglierà direttamente a questo motore andiamo ad accendere, come vedete si muoverà e possiamo notare subito in basso a destra che ora la nostra energia è arrivata a 48 non ci serve però serviva per farlo vedere ora dobbiamo mettere i depositi, cioè quelle strutture dove andranno inserite tutte le risorse che raccoglieranno in automatico i nostri estrattori ci saranno anche qui diversi tipi di depositi, quelli per i gassosi, i liquidi e i solidi ne mettiamo due per i gas, uno ne basta in questo momento per i liquidi e poi ne andiamo a mettere tre per i solidi siete liberi di mettere questi depositi come volete ora cosa dobbiamo fare? dobbiamo collegare i depositi tra di loro semplicemente cliccando di nuovo crea link e andarli a collegare uno all'altro questo cosa significa? che l'ultimo collegato, cioè l'ultimo della catena sarà quello in cui tutti gli elementi si andranno a depositare per primi cosa significa? che quello a destra, una volta che raccoglierà i vari elementi li porterà direttamente sull'ultimo, che è quello di sinistra infatti se noi clicchiamo sull'estrattore dobbiamo scegliere sempre il primo della catena una volta che il primo riceverà degli elementi, in questo caso l'elio li metterà automaticamente e immediatamente nell'ultimo della catena cioè quello a sinistra in questo caso per l'acqua ne abbiamo solo uno ma andiamo a ripetere il procedimento sui tre per quanto riguarda il ferro prendiamo il primo, scegliamone uno mettiamo il link sul secondo e dal secondo creiamo il link e colleghiamo il terzo quindi formando una catena l'ultimo della catena è quello che si dovrà riempire per primo selezioniamo l'estrattore e andiamo a metterlo non all'ultimo della catena ma al primo della catena facciamo la stessa identica cosa con quest'altro estrattore e mettiamolo qui questo significa che il primo si riemperà per ultimo e l'ultimo si riemperà per primo una cosa interessante è come state vedendo che su ogni deposito ci sarà la possibilità di vedere un piccolo display che ci darà esattamente quanto è riempito o no con una percentuale poi se ci avviciniamo giustamente ci farà vedere anche quanto materiale abbiamo raccolto altri oggetti utili da costruire assolutamente all'inizio per fare questo avamposto molto basilare sarà un container di trasferimento e la piattaforma di atterraggio per la nostra nave come funziona il container di trasferimento? semplicemente dobbiamo in questo caso creare un link dall'ultimo della catena dei depositi cioè quello che si va a riempire per primo prendere la nostra bellissima linea questa lineetta rossa e collegarla al container di trasferimento quindi in questo modo tutti gli oggetti materiali che verranno estratti verranno automaticamente messi in questo container da questo container come vedete ora c'è ferro, elio, acqua i tre elementi che noi abbiamo nell'avamposto da qui noi andando sul menu della nave e cliccando stiva di carico e muovendoci nei vari menu inventario possiamo arrivare ad avamposto in questo caso avamposto zamca da qui queste sono le risorse che abbiamo raccolto poterle tranquillamente selezionare e andranno immediatamente nella vostra nave un'altra cosa che serve al nostro bellissimo accampamento sono le strutture possiamo creare un'entrata possiamo decidere se farla sovraelevata oppure lasciarla diciamo al piano terra e andare a mettere tutti quanti i moduli i moduli potete sceglierli come preferite potete anche mettere i vari corridoi per andare a collegare i vari moduli una volta che avete completato il più bello possibile il vostro accampamento possiamo passare all'interno andate all'interno riaprite il menu del radar cliccare su avamposto e andate a cambiare le varie strutture mettendo sedie e tavoli quello che a noi interessa è assolutamente la stazione equipaggio perché in questo modo andando sempre su nave e cliccando il tasto sempre in basso a destra equipaggio potete andare a scegliere tra tutti i vostri compagni e andarli a selezionare, a impostare, a segnare all'avamposto in questione che è l'avamposto zamca come ho fatto con il mio amico Heller il consiglio che posso darvi è date sempre un'occhiata alle varie abilità che hanno i vostri personaggi in modo tale da ottimizzare quelle che sono le varie ricerche degli avamposti e così via come potete vedere intanto il tempo è passato e piano piano i nostri depositi si stanno riempendo infatti se noi andiamo sempre al container qui siamo arrivati veramente a tanti materiali un'altra cosa che potete fare attraverso la piattaforma di atterraggio è vendere o modificare le vostre navi o addirittura comprarle e con questo amici miei vi saluto ci saranno altri video sugli avamposti per vedere altre particolarità io come sempre vi ricordo di lasciare un like un commento di iscrivervi al canale se ancora non l'avevi fatto e ci vediamo in un prossimo video ciao